caspita se è forte sta armatura che mi impara tutto no! l'ho sciato la cassa porcaccia la miseriaccia ma questa arma adesso la vedremo all'opera qua le piattaforme che male che fa questa arma ma ci arrivano i proiettili o no? che male che mi fa oh cavaccia che male che mi fa non muore eh? è fortissima che sta arma il fatto che la mira fa un po schifo perchè vanno un po a caso i proiettili però almeno dove sono? da sud? dove è sud? attenta nora! arriva! attenta nora! attenta nora! cosa vuole sta bestia? cosa vuole sta bestia? oh sto gallinaccio porcaccia la miseriaccia in faccia attenzione a ove attenzione a ove! non so ma non so ma minco quanto mi piace esperienza gratuita Mannaggia E vai giù Guarda che vanno a casa i proiettili Si mi Questi cosi Sblocano in faccia Porca Mi dispiace Ora posso prendere il respiro E prepararmi Fa fare un po' di rifornimenti Alle vostre armi A ovest Faremo un po' di rifornimenti Grazie a tutti Andare più alto Vai giù amico Vai giù Va bene Fanno qualcosa Sti qua Sto facendo io solo danno Stai sentendo gli smirighi Un po' di rifornimenti Un po' di rifornimenti Ha brutte pistie In pieno mi ha preso Sleubre calano su di nuovo! Il problema è quella cosa che mi... Che male! Se riuscissi a prenderli in testa... Ma sto cos'ho, se rame preciso, fa un po' schifo, guarda, vanno tutti a casa i proiettili! Arriva! Devo andarmene subito da qui! Ma sta lanciando di tutto, sta lanciando sto coso! Cazzo, non c'è nulla, non vedo! Cazzo, non c'è nulla, non vedo! Non c'è nulla, non c'è nulla Non vuoi guardare a me abito il best... Dai, si alzi in volo! Brutta bestia che si alzi in volo! Non c'è nulla... Porca c'è un miseriato! C'è un grosso! è morto finalmente è morto sto lavi tempesta, è volato via proprio di colpo oh pfff pff 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 tff pff 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 Puoi ricaricare l'arma Senza guardare le sfere No Ma come Non spezzato le difese Alloy 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 Teb Per la madre sei viva Credevo fossi morta Gli altri Sono No No Sono feriti ma per fortuna sono vivi Le macchine ci hanno travolto Poi hanno proseguito Hanno marciato sulla guglia Trascinando quella cosa con loro Prenditi cura degli altri Teb Io devo andare Guarda che qua Ho visto che si garacava per forza guardando Però boh Sta venendo distrutta completamente Niente cazzo Devo proseguire Alloy va Noi li attiriamo Ora affronterete il vero sole Demoni dell'ombra Oh Struzione Mi ho buttato un attimo per terra Lo schifo tutto Uff Icargia sono vittoriosi Sì Sì Un'altra volta Quanti livelli mi son fatto qua Mi sarai utile Quella è Oseram Oseram e quella Banuk Ma ha sciato tutto Eh Ho messo un sacco di componenti in macchine Sì stiamo andando nella guia stiamo andando Sì veramente nella guia Come senza armatura adesso È iniziata Adesso sta trasmettendo È sto bambino Scusa Cioè ci sono più macchine Classe sterminatore Che macchine corruttrici qua No conversione biomassa Oddio Aiuto Se Abe ha avviato il segnale Deve essere riuscito a superare le difese Fino ora L'avanguardia di Erend Devo arrivare lassù Potrei dire che si è attivato La conversione di biomassa Ma è la fine Letteramente la fine Devo continuare Non posso fermarmi Sapevo che non era Facile Quindi non si torna indietro Sono vivi È Aloy Beh lo vedete Pensavamo che fossi caduta al crinale No è caduto lui su di me Non ci rimane molto tempo Devo affrontare Ade Non da sola Tocca a me Non posso chiedervi di seguirmi Andavamo comunque verso la cima Giusto? Bene Tordidi e falchi Andiamo Dovrei rifornirmi Ora o mai più Ora o mai più Andiamo Andiamo amici Verso la salvezza del mondo L'arrivo dell'entità È stato Anticipato L'entità Non interromperà La trasmissione Al contrario I calcoli sono Precisi La presenza dell'entità Era Prevista Eccolo Bellstormbringer in faccia Prepararsi È uno Stem Ho un'arma migliore per quello Questo Eccolo Prepararsi Caccia, mi tagliato Se fa letteralmente nulla da quanto grosso sto cosa Attenzione, ha chiamato rinforzi Non devono batterci Razzatore, razzatore, razzatore molto buono Caspita, non vedo niente È uguale sto cosa L'ultima è a ferra, per ora Abbiamo distrutto l'ultima corrotta Non mi ha dato Non mi ha dato il caspita di Abbiamo tempo Ok, ancora tempo Attenzione, altre macchine Eliminiamole per prime No amici, non morite Non venire da me, corruttore Non venire da me Concentrarsi su entità Ancora una, fatti sotto allora Pensavo fosse per terra E dai sto polo di fuoco Dai sto polo di fuoco Grazie che siete con me Eh però non è che siete molto d'aiuto Eh E' abbastanza tempo per distruggere Uno è andato Riparo, 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 riparo Riparo Vittoria Le nostre frecce sono state efficaci Steccatelo sto idiota Steccatelo Aspetta che lineate Per il tempo che mi è rimasto Posso farcela Sto tizio è grosso eh Minaccia di sistema imminente Sono più di una minaccia Sto tizio è grosso eh No 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 Override principale armato Per attivare e pronunciare nome e grado Elisabeth Sobek Alfa Prime Override principale attivato Elimino il protocollo di estinzione Oh Le remesse dormienti No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno cent'anni. Domanda, quanti anni avevi? Sei. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri e subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti, perché c'erano dei nidi in cima al pino. Domanda, cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda. Che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse Elisabeth. Essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elisabeth, come avresti voluto che fosse, immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa. E ostinata, inarrestabile anche. Ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elisabeth. Grazie. A domani. Adesso scopriamo una verità. Un'altra verità. Una verità celata. Ecco lo silence, vediamo. Ah, bastardo di un silence. Ciao, mio vecchio amico. Ti ricordi di me? Abbiamo ancora molte cose di cui parlare. Molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio. Quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene. Iniziamo. Matto sto sai, dai. Veramente. Questa è peggio di Ade, sta cosa. Peggio di... Quella è classe livello montagna. È macchina livello montagna. Porca caccia la miseriaccia. Bene. Quindi abbiamo visto alla fine che silence è pazzo. Tutto pazzo. Non ha imparato niente, vuole ancora la conoscenza, ne vuole saperne ancora, riguardo ai creatori della macchina e vuole risvegliare quel colosso. Quindi abbiamo capito che sarà il continuo di O'Ride Zero Dawn 2, perché è stato annunciato il 2 e quindi ovviamente sarà con silence. E ritornerà di nuovo Ade, ritornerà. Però almeno tutta la storia l'abbiamo capita di Aloy e del posto come sono arrivati a questo punto, diciamo. È stato un gioco molto interessante. Ovviamente è un gioco abbastanza aperto per tutti. Quindi non è che sia così complesso come combattimento o roba. È un gioco molto tranquillo che si basa molto sull'ambientazione, l'ambientazione del posto e la grafica e anche soprattutto i dettagli di queste macchine. Il dettaglio, il combattimento ci sta, non è così complesso. E anche sistema di magari dei talenti o roba così ci aiutano un po' di più. L'unica cosa un po' che mi ha storto un po' il naso, non mi è piaciuto proprio diciamo, l'ho sempre detto, riguardo l'esplorazione. Nel senso che è un mondo talmente tanto aperto che le missioni principali ti mandano in un punto. Ad esempio mi ricordo all'inizio ci ha mandato, quando siamo usciti dalla culla della madre, ci ha mandati qua. In questa zona ci sono uno o due missioni secondarie, poi subito ti manda direttamente in un'altra parte della zona qua. C'era una zona in mezzo torre del giorno, una roba del genere. Una missione, poi ti sposta direttamente a Meridiana e così via. Cioè quindi avrei preferito magari un po' una cosa un po' più con calma. Cioè quindi noi facciamo la missione principale e abbiamo tempo di guardare intorno grazie alla missione principale, un po' alla zona e roba così. Però è una scelta degli sviluppatori, quindi hanno detto fate come volete. Se siete interessati tirate dritti con la missione principale, la storia. Se no se volete potete anche tranquillamente perdere e divertirvi a esplorare un po' la zona. Purtroppo io ho esplorato un po' troppo perché è saperlo prima. I collezionabili serve solo alla fine per platinarli e non sono così indispensabili nel trovarli tutti. Perché alla fine la ricompensa e la fatica di averli trovati la ricompensa è veramente nulla. Giusto per platinare il gioco immagino. E l'unica pecca è questa secondo me. Poi il resto è un gran bel gioco, anche la storia è stata molto interessante come gioco. È una continua scoperta, quindi è giusto che come abbiano fatto di mandarci destra e sinistra e vedere posti diversi, posti nuovi, macchine diverse, macchine nuove. Ed è veramente stato molto piacevole scoprire la storia. Entro e siamo arrivati a conclusione. Detto questo vi ricordo che c'è il canale Discord per rimanere aggiornati con gli orari, tutti della programmazione che farò in live. E detto questo noi ci becchiamo con la prossima serie.